ciao sono serena e il mio coming out e volevo raccontarvi è stato con la mia migliore amica delle medie è stato uno dei primi coming out che ho fatto ed è stato molto particolare perché io ero molto agitata perché non sapevo come avrebbe potuto prendere e anche perché avrò avuto 14 15 anni e avevo davvero paura della sua reazione visto che ci tenevo molto e quando glielo ho detto ero agitatissima lei mi ha guardato e scoppiata a piangere non sapevo cosa dire cosa fare perché appunto c'è pensavo che c'era qualcosa che non andasse eccetera e ho chiesto spiegazioni perché stesse piangendo e lei mi ha detto che mi avrebbe accettata per quello che sono e che per tutto quel tempo mi ero portata a quel peso addosso non l'avevo condiviso con lei e mi spiaceva un sacco che non l'avessi fatto prima